Salve a tutti Blazers, benvenuti in questo terzo episodio della serie Hardcore Terzo episodio che potrebbe essere anche l'ultimo Perché oggi si va nella città antica Avete sentito benissimo nell'intro, andremo nella città antica E prima di continuare vi voglio anche dire che potrei avere la voce un po' strana in questo video Perché ho un po' di mal di gola, ho un po' giù la voce Sì, ci risiamo, che palle Ma il video si fa lo stesso Prima di cominciare, di raccontarvi il perché e il per come ci troviamo in questa situazione Facciamo un breve recap di cosa è successo nell'ultimo episodio Ma anche nella live che ho fatto su Hardcore Che uscirà oggi sul secondo canale, peraltro Sono andato ad esplorare un po' di grotte E stanco della grotta che c'era qui abbiamo deciso di cambiare grotta E di andare in una che c'è più o meno da quella parte Seguendo un po' l'istinto e cercando le entità con F3 Sono andato a scavare un tunnel E totalmente di fortuna, praticamente Siamo sbucati nel sottosuolo E lì c'era il Deep Dark, ma non Deep Dark qualsiasi Perché sotto quella montagna C'è la città antica E io l'ho già trovata All'episodio 3 della Hardcore La città antica in una Hardcore Penso che sia uno dei rischi più grandi Soprattutto se sei vestito di solo ferro Ma va detto anche che Essendoci solamente il Warden lì Il pericolo è uguale per tutti Il Warden, a meno che non ti acchiappi Ma è un po' stupido farti colpire fisicamente Ti può colpire con il suo raggio fotonico E quel raggio va a bypassare Qualsiasi protezione delle armature Quindi puoi andarci anche nudo O con le armature nederite A lui non cambia niente Sempre con quelle 2-3 hit Ti abbatterà Di contro Nella città antica Possiamo trovare qualcosa di molto prezioso Quindi io vorrei farci una capatina Quanto meno Già adesso Per vedere se troviamo qualche tesoro E diamante Diamante che peraltro Avevamo trovato l'altra volta insieme E che in live Sono andato a cercare ancora E ora abbiamo 6 diamanti Direi di partire proprio da questo Di questi 6 diamanti Purtroppo non ci possiamo fare Chissà che cosa Ma io ho già chiaro in mente Che cosa ci andremo a fare Provate a indovinare nei commenti Vi lascio il tempo di scriverlo Nel mentre uso questa breve clip Per chiedervi come sempre Di supportare con un bel like video Questa serie Che siamo solo all'inizio Ma già ci regala emozioni grossissime E che sto registrando senza voce Quindi supportate con un like E iscrivetevi per non perdervi nessun video Se vi iscrivete al canale Ricordatevi di attivare la campanella Non fatemi fare come tutti gli youtuber Che vi metto il graffichino Per vedere quanti sono iscritti Quanti no Sappiate che molti guardano i video Da non iscritti Quindi se volete Fatelo Che conviene E alle 20.30 stasera Siamo in live Con l'Harkor Nella prima parte Nella seconda parte Inizieremo invece Una serie Sul nuovo gioco Horror Che si chiama Brumble Nuova serie Walkthrough Sul canale Quindi vi aspetto Link in descrizione Bene Mi servono in realtà Cinque diamanti Tre diamanti Li useremo per un piccone Di diamante E gli altri due Per fare L'Enchanting Table Quindi andiamo a farci Il nostro piccone E andiamo subito A prendere L'Ossidiana Che ci servirà Per fare L'Enchanting Table Anche quella Sì esattamente Dato che Incantarci potrebbe essere Un bel passo in avanti Un passo importante Se non ricordo male Da questa parte Avevo visto Anche un lago di lava Questo seed è molto fortunato Infatti eccolo lì Perché mi ha portato Ad avere un sacco di cose fighe Vicinissime Al punto di spawn E soprattutto Questo comodissimo villaggio E abbiamo anche La lava in superficie Che non è una cosa Da ignorare Sì è abbastanza comune Però ci permette già Di raccogliere Ossidiana Senza dover andare In caverna Sperando che non ce ne sia Altra sotto Perché se no Diventa un po' Un disastrino Brutteremo questa pozza Sicuramente più avanti Per farci Il portale del land Cioè sì Buonanotte Il portale del nether E poi andremo a prendere La bliss powder Andremo nel land Quello è un altro discorso Ma per ora Ci limitiamo A raccoglierla Perché abbiamo bisogno Delle enchanting table E avremo bisogno Anche di un sacco di libri Se vogliamo incantare Come si deve E guarda qui Il rischione Lo sapevo io Comunque I primi enchante Li facciamo così Un po' muzzo Ma direi Che già che ci siamo Possiamo impostare Anche una piccola Coltivazione Di canne da zucchero Cosa che non avevo Ancora fatto Ma che sarà importante Per fare Una zona enchante Completa Per ora Andiamo a piazzare Tutto qua dentro Ma ragazzi Ricordatevi sempre Che diciamo Che questa è una base Provvisoria La vera base La faremo Appena saremo pronti E avremo tutto Il necessario Allora Come possiamo fare La nostra farmettina Direi magari Di sfruttare L'acqua che c'è qui In modo da fare Altre fonti Ci mettiamo qui Scaviamo un po' E come sempre Basta prendere Due secchiate Ne metti una Lascia uno spazio Ne metti un'altra Torni al secondo blocco Prendi Metti qua Prendi Metti qua E in questo modo Riproduciamo Le fonti infinite Finchè Non riempiamo tutto Che poi Non per forza Serve la fonte D'acqua infinita Però vabbè Per una questione Di ordine Noi facciamo così Andiamo a piantare Tutte le canne da zucchero Attorno Così che crescano E pian piano Arriveremo Al numero necessario Per fare Tutti i libri Che ci servono Arriviamo qui Ne avanza una Direi che siamo a posto così Ah ma ragazzi Non mi dite niente Cioè magari nei commenti Me l'avete anche detto Ma io sto registrando un video Non sono in live ora Quindi non lo so Non abbiamo visto i progressi L'ho detto E poi non vi ho fatto vedere niente Ragazzi Siamo ufficialmente Al giorno 20 Siamo praticamente A un quinto Dal grande obiettivo Cioè poter dire Sono sopravvissuto 100 giorni Nell'arcore Di 1.20 Anche se oggi Andiamo nella città antica Quindi probabilmente Finiremo lì Però Intanto 20 giorni Li abbiamo già fatti Il che non è affatto male Ora Prendiamoci il ferro Prendiamoci I rimanenti diamanti Prendiamoci anche questi Io dovrei avere Esatto Almeno un pezzo di cuoio E possiamo così Craftarci tutto il necessario Prima di tutto Abbiamo bisogno di farci Dei fogli Fogli con cui ci facciamo il libro Libro con cui facciamo L'enchant in table Due diamanti Ossidiana Enchant in table fatta Per ora non farò Alcuna libreria attorno Quindi possiamo piazzarla Dove vogliamo E assolutamente a muzzo Ma perché ho preso anche il ferro? Perché ragazzi Ci andiamo a fare Tre bei blocchi di ferro Mettiamo questi sotto E abbiamo già Anche l'incudine Perché l'incudine? Perché Se ricordate Nell'esplorazione Del dungeon Se non ricordo male Avevamo trovato Feather Falling Che si dà il caso Sia davvero molto utile Quindi andiamo a piazzare Enchant in table Incudine Togliamoci pure L'armatura E iniziamo Ovviamente Con il lapislazzolo A incantare Vedendo cosa salta fuori Io ovviamente Investirei tutto Su una protezione base Questa mi costa Tre livelli Protezione 1 Ok Non ne valeva assolutamente La pena Quindi se possiamo Spendiamo un livello solo E la chiudiamo così Allora Piedini Che andiamo subito A unire Con Feather Falling Che tanto Per due livelli Ne vale assolutamente La pena E almeno abbiamo Un po' di protezione in più Il piccone Possiamo già Pensare di Sì magari Non così Possiamo già pensare Di incantarlo Dicevo Con efficienza 1 Almeno L'arco Andiamo a fare Power 1 E la spada L'andiamo a craftare Nuova Perché questa È quasi finita Quindi spadina Nuova E andiamo subito A farci Uno sharpness Speriamo Ho ritolto i suoni Degli animali Perché mi viene Il mal di testa Non so che idea Del cavolo È stata farmi Le farm degli animali Attorno alla casa C'è proprio un'idea Schifosa E dormiamo anche Perché c'è l'Iron Golem Che là fuori sta combattendo Direi di non consumarlo Per niente Comunque Mi avanzano 7 livelli Io direi che potrebbe essere Un buon investimento Devo farci Un'altra spadina Andare a incantare Quest'altra spadina Per carità Tutto bellissimo Però se non mi dai Sharpness Amico mio Non serve a niente Allora facciamo anche Magari Unbreaking E niente ragazzi Facciamo La zappa Unbreaking La pala Ma Non mi esce Niente di utile Ascia Con efficienza Spada Sharpness E queste due Le uniamo Così abbiamo Sharpness due Oh ci siamo arrivati Va bene Ragazzi È il momento Mettiamo in ordine L'inventario E poi Si parte Per andare incontro Alla morte Cioè andremo Nella città antica Almeno per fare Una prima piccola esplorazione Ma che città antica Calmi un attimo Mi stavo dimenticando Una cosa importantissima Cesoie ragazzi Facciamo le cesoie E dato che un po' di pecore Le abbiamo Iniziamo a prendere la lana Perché la lana Ci serve Nella città antica E io Guarda Quasi quasi Un po' me la porterei Cioè non mi sembra Una brutta idea Dovrebbero esserci Anche altre pecore Qui in giro Quindi andiamo a trovarle Sono là in fondo E raccogliamo Tutta la lana possibile Guardate lì Chi c'è C'è un enderman Ma sei serio? C'è un enderman Si mette a piovere Ma C'è ragazzi Ma si può Non c'è più l'enderman Ok Non prendiamo l'enderper Va bene Grazie minecraft Gentilissimo come sempre Sono un bordellame In mezzo Di pecore Però prendiamo Facciamo un giro giusto Di pecore bianche Poi le altre Lasciamo stare Almeno Accatastiamo un tipo di lana In uno solo In un solo slot Se no siamo scomodi Siamo già a 13 Diciamo che Ne servirebbe Molto di più Diciamo anche che Non dovrei andare Nella città antica Ora Ma vabbè ragazzi Ma va bene così Dai Sono riuscito A raccimolare Ben 33 pezzi Praticamente Abbiamo Più di mezzo stack Non posso dormire Perché non è una tempesta E teoricamente T'ho 34 pezzi Piccolo punto importante Ho la name tag E ho anche le ossa Non lo facciamo oggi Perché ormai è tardi E perché anche Sarebbe controproducente Ma la prossima volta Ricordiamoci Voglio fare Il primo pet Della serie C'è un cagnolino Che potrebbe darmi una mano Oggi direi di evitare Perché andare In una città antica Con il cane Non sarebbe Una mossa Molto furba Dato che Non voglio attivare Gli shrieker E i sensori E il cane Lo farebbe al posto mio Già ci sono i pipistrelli E quelli ci bastano Quindi andiamoci da soli Nel mentre Sulla strada Ho raccimolato Qualche altro blocco di lana Ma ragazzi Eccoci Nella grotta Questa grotta Come vedete anche Dalle torce lì sotto In cui posso scendere Anche più shallow Perché Cioè posso subire danno Quindi easy Questa grotta Dicevamo Non porta nulla Ma provando a scavare Per cercare un continuo Eravamo più o meno Qui sotto E abbiamo notato Un dettaglio importante Ovvero Con F3 Risultavamo In questo punto Nel deep dark E quindi dici Se sei nel deep dark Da qualche parte La grotta col deep dark La troviamo Ho provato a scavare Più in basso Andando verso la montagna E guardate un po' Deep dark Se andiamo da questa parte Forse Forse era questo buco Sì Perfetto Da questa parte Ragazzi La città antica Guarda E già iniziamo molto male Togliamo questi Via La città antica Signori Che visiteremo In ferro Senza alcuna Pozione di visibilità notturna Senza il totem Del non morto Lì c'è già uno shrieker Lì ce n'è un altro E quindi Siamo già morti Praticamente Ma Chi non risica Non rosica E chi dorme Non piglia pesci Non so cosa c'entra Però volevo dire Qualche metafora Qualche modo di dire Quindi Quindi Siamo pronti a scendere Vorrei scendere Col water bucket Per fare un po' il figo Però Devo anche poi risalire Quindi Qua Mi sa che la cascata La mettiamo E la lasciamo È per forza di cose Lo so È un po' Anticlimatico Però ragazzi Dobbiamo fare le cose pratiche Quindi scendiamo con calma Prima di fare questa follia Che ci porterà Alla morte O alla conquista Di tesori inestimabili Vi voglio dire una cosa Non l'esploreremo Sicuramente tutta Anche se Prima o poi Mi piacerebbe svuotarla Per renderla Alla mia base Qui Nell'arcore Perché sarebbe una cosa Fighissima In più siamo sotto la montagna Quindi potremmo scavare Una torre Che spunta dalla vetta Con degli ascensori Che vanno direttamente giù Cioè Già mi sto vedendo tutto Nella mia testa Però ragazzi Ricordate che Lo shrieker Può essere attivato In modo safe Tre volte E solamente La quarta volta Esce il warden Quindi se facciamo Un po' di attenzione Ci possiamo giocare I nostri tentativi Per raccogliere Qualche piccola risorsa Prima di attivare Il warden E scappare Clamorosamente Perché poi si muore Quindi ci prepariamo La lana E signori Si scende Piano piano Fino a qui Ok Andiamo subito A non fare casino Siamo su della lana Pure in questo punto Quindi siamo abbastanza safe Non ci vedo niente Voglio una pozione Non l'abbiamo Quindi ci attacchiamo Al Piripillo Ok ragazzi Qua Mi serve subito un piano Perché Ho bisogno di Capire come procedere Da questa parte C'è già una chest Però quella chest Ha anche uno shrieker Lo vedo da qui Quindi Mi sa che lo shrieker Cercheremo di Distruggerlo subito E uno è andato E non ho ancora raccolto niente Ragazzi Però in serie così No dai Piccolo appunto Non posso piazzare Torce Sulla lana Fa comunque rumore E niente Allora C'è uno shrieker Tra l'altro Nascosto lì Il problema di quello shrieker E che se spacco questo C'è quello Che si attiva Quindi come straminchia Faccio Devo andare di qui Ragazzi Io ci provo Però Non vi assicuro niente Devo andare Da questa parte Circondare Prima lui Ok In modo che Se lo distruggiamo Si può fare Sta cosa Si ok Se andiamo a distruggerlo Spero Non faccia Vibrazioni Ovviamente In qualche modo Passerà da sotto Non lo so Farà casino Lo stesso Guarda Senti Togliamoci il dubbio E due Vabbè ragazzi Siamo già a metà Dell'opera Abbiamo già Spanculato tutto Perfetto Però almeno Questo l'abbiamo tolto Togliamo anche quello E forse una cesta Riusciamo anche a prendercela Speriamo di trovare Poi delle zone Un po' più fortunate Perché Cioè ragazzi Tutto così Anche no Allora Via questo Bene Guardate cosa troviamo Qui tra l'altro Attenzione Perché ragazzi Iniziamo molto bene Molto utile Questo tesoro Intanto Protezione E proiettili Che vabbè Potevamo fare di meglio Libri Per i nostri enchant Assolutamente Unbreaking Emending Si indossa subito Si gode anche E guardate qui Curse of Vanishing Non ci interessa Però la zappettina Di diamante Io non l'avrei mai craftata Quindi buono così Questo disco Ce l'ho già Però nel dubbio Lo prendiamo E questi Skull Sensor Mi servono Come il pane Perché ragazzi Esiste Un circuito Che ti permette Di disattivare Il Warden Me lo devo ancora studiare Ma richiede Lo Skull Sensor Skull Sensor Che puoi raccogliere Solo con Siltouch Quindi averlo trovato subito Ci permette Di poter tornare Le prossime volte Piantare quel circuito E se tutto va bene Magari esplorare In modo sicuro La città antica Intanto Noi ce lo portiamo A casa volentieri E possiamo proseguire La nostra esplorazione Da questa parte Perché? Perché c'è della luce E la luce Personalmente È una cosa Che vorrei avere Ok Cerchiamo di spostarci Nei corridoi Con La lana Finchè si può Cioè ragazzi Già così Io non vedo Niente Qua c'è un muro Non lo stavo vedendo Cioè se mi esce il Warden Io come scappo? Cioè Realmente Io come faccio a scappare Da qui? Se uscisse il Warden Non puoi scappare Non puoi Non si può fare Sta cosa Allora Vediamo se Qui In mezzo al buio Cosmico C'è qualche chest Ci sarà anche Qualche shrieker Direte voi Ma sicuramente Ragazzi Figurati E non lo vedrò E lo attiverò 20 volte di fila Allora Proviamo un approccio diverso Se io salissi Qui sopra Potrei Andare a prendere Le scale E magari dall'alto Già riesco a vedere Vedo Niente Zero totale Non si vede nulla In questa città antica È un disastro Però ragazzi Avete visto Una chest Quanta roba Ci può dare Cioè È stupido Essere qui Sì Non è però Più stupido Non provarci Dai È un'occasione Dobbiamo assolutamente Però capire E trovare Un'altra cesta Almeno una Non è che chiedo tanto Una seconda cesta La voglio aprire E poi Se attiviamo qualcosa Ci toccherà Darci la fuga Con la darkness Poi non penso Che sarà divertente Ma Si può provare Lì Ho già visto Un altro shrieker Mamma mia ragazzi Faremo un disastro Io Io Ho già un piede Nella tomba Lo so Però ragazzi Guardate Ho trovato La mia chest Saliamo Silenzio Silenzio Ok Proviamo A Bloccare Le vibrazioni Sicuramente C'è uno shrieker Qui dietro Me lo sento E invece Attenzione Non si attiva Niente Ci portiamo a casa Tutto Tutto quanto La pozione di regen Le candele L'armatura La bardatura Per il cavallo Va benissimo E poi Silk touch Eh ragazzi Qua però Si gode Stiamo facendo benissimo Sweeping edge Multish Shot E Riptide Devo dire Un loot Davvero niente male Vedete che ne vale la pena Ne vale assolutamente la pena Fintanto che non si muore Ne vale assolutamente la pena Proviamo a andare di qui Che poi Il più grande problema Non è venire qui A inizio gioco È proprio la visibilità Io non vedo niente Cioè È così buio Che vedo il riflesso Della luce sullo schermo Dovremmo Dovremmo assolutamente Sbloccare le pozioni E tornare con le pozioni Perché se no ragazzi Qua siamo Fottuti Non lo so Però meglio toglierlo Che averlo ragazzi Io l'ho visto lì Ho deciso di toglierlo È anche piuttosto Snervante Dover andare così piano Quindi se trovassi Uno Swift Sneak Se si chiama così Non ricordo neanche Se si chiama così Sarebbe Tanta roba Intanto Questa struttura Non ha qualcosa Forse no Però lì di fianco Quella ha due chest Ragazzi Devo andare lì dentro Ce la rischiamo Lì Vedete Abbiamo la nostra colonna d'acqua Se dovessi fuggire Questa non andava fatta Come mossa Però è andata bene Va bene così Se dovessi fuggire Al buio Est Dobbiamo correre Verso est Allora ragazzi Saliamo Piano piano Non c'è fretta Nella città antica Non si va Di fretta Uno Due Tre Io Tento anche così Per sicurezza Bene Andata bene Altri sensori Un sacco di ossa Ma prendiamoci tutto Vi dirò Perché Perché Finché abbiamo Gli slot Perché non prenderci Ogni cavolata Che troviamo Secondo me Ne vale la pena Fai così Andiamo dietro Mettiamo un blocco Anche qui E abbiamo finito La lana Vediamo Eh ragazzi Però solo gambali Mi da solo gambali Che palle Efficienza Smite Candele Echo shard Le prendiamo Eh ragazzi Però io devo tirare su Questi Allora Sentitemi un po' Io i dischi sono quasi sicuro Di averli già presi Quindi qua Protezione 4 Ma bellissimo Prendi tutto Raccogliamo tutto Protezione 2 Vabbè Senti Facciamo che Togliamo Le torce Dai Chi se ne frega Delle torce Questi li mettiamo Subito Mending E protezione 4 Più unbreaking È una figata E ragazzi Iniziamo A tornare Verso la cascata Ma Se ci troviamo Un'altra chest Apriamo un'altra chest Ovviamente Bene Almeno qui Posso correre un po' Perché È davvero Snervante Non poterlo fare Però Non è che io Mi fidi tantissimo Ok Beh Dai È stato Andata bene Ok Possiamo entrare qui dentro E Riprendere la nostra corsetta E da qui Io Non so neanche dove andare Non si vede un piffero Mamma mia Dove sono finito ragazzi Ma che posto è Non si vede niente Io Potrei piazzare anche una torcia Ma Sicuro Vado ad attivare qualcosa Però ragazzi Dai Ok Chi non risica Non rosica L'abbia detto prima Ho tentato È andata bene Proviamo a salire di qui Teoricamente La cascata È qui da qualche parte Ragazzi Però Io sto rischiando un botto Me ne rendo conto Ma Ah perché sono ancora All'interno delle mura Ecco perché Lì c'è anche un teschietto Però abbiamo l'inventario pieno Dov'è la mia cascata? La mia cascata È esattamente qui Ok ragazzi Torcina ancora Possiamo pensare Di guardare Se troviamo qualcosa di qua Allora Cascata C'è uno shrieker lì Che va assolutamente rimosso Perché io Non mi fido Per nulla Di quello E poi da questa parte Ci sono delle chest Io Un tentativo Pazzo Sinceramente Lo farei E questa è andata bene Perfetto Tra l'altro ci stiamo facendo Anche esperienza Che non guasta mai Con lo skull Che possiamo Farcene un botto Volendo Allora Da questa parte C'è un'altra zona Di chest Il problema È che Non ho più La lana Zero proprio Quindi Devo sperare E ok Ci sono i blocchi Per salire Bene E io qua Non vedo Ok c'è uno shrieker Invece Dobbiamo sperare Che sia l'unico Non era l'unico ragazzi Non era l'unico Calma Calma Ora Dobbiamo mantenere La calma Perché se Perdiamo la testa E corriamo Il prossimo Che si attiva Sarà il warden Sudo Sto sudando Queste chest Sono qui Sono a portata di mano Ma Rischiare Potrebbe essere Un errore clamoroso Devo capire Come scendere Da questo cuore Di tenebra Qui Ok Ragazzi Se sentiamo attivarsi qualcosa Corriamo verso l'acqua Per ora Possiamo Andare scialli Siamo a un passo Dalla morte Siamo davvero Vicini Tantissimo Alla morte D'altronde Questo è il deep dark No Andare pianissimo Per non far rumore Anche se sai Che qualcosa Ti potrebbe acchiappare Che corre da matti Il dallato warden Ma ragazzi Siamo arrivati All'acqua E ora qua Dobbiamo fare rumore Per forza Perché nuoteremo Quindi Via Corri Corri Scappa Scrocia le dita Corri Scappa Corri 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 Fregatene Vai Ok Andato tutto bene Ragazzi Ci siamo Siamo fuori Dalla città antica Esplorata Il terzo episodio Della hardcore E guardate Che ben di dio Ragazzi Non ci resta Che salire Portiamo tutto Al sicuro Lasciate un like Per questa impresa clamorosa Ci vediamo stasera In live alle 20.30 Con il seguito E domani Con un nuovo video Ragazzi è stato terribile Ma siamo ancora qui Siamo ancora in hardcore E siamo al giorno 22 Direi Niente male Ciao a tutti 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 Ciao a tutti